Fatturazioni redigendo anche perizie immobiliari che consentivano di gonfiare il valore di alcuni terreni di altri immobili su cui poi venivano sviluppati progetti immobiliari da vendere alle società di leasing appartenenti al gruppo bancario del Monte dei Paschi di Siena. La truffa è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Salerno che su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e sequestrato beni immobili ed immobili per un valore complessivo di 6 milioni di euro. Le misure cautelare hanno raggiunto un imprenditore di Vallo della Lucania, la moglie, ma anche un commercialista, un intermediario finanziario di Napoli, un architetto perito del gruppo finanziario e due imprenditori agricoli di Capaccio. Per un collaboratore dell'imprenditore vallese, che resta il principale indagato, è scattato l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tutti risultano indagati per i reati di associazione per delinquere, truffa, frode fiscale, per emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e falso, commessi nell'ambito di una serie di compra vendita artificiose ed immobili. Il giro di fatturazioni false scoperte dalle fiamme gialle di Vallo della Lucania, che coinvolge 10 società operanti nel territorio campano e toscano, ammonta circa 4 milioni di euro.